Con questa donazione, a pieno centrato quell'obiettivo, l'ospedale ha restituito la sua piena funzionalità al servizio della comunità, in questa ripartenza post-covid che non è meno impegnativa perché c'è tanto da recuperare e immagino poter contare su una macchina come questa per poter riprendere la diagnostica sia un fatto straordinario, sono macchine molto più veloci, più performanti e riescono a fare il loro dovere in pochi minuti e pochi secondi, fanno quello che gli altri fanno in molti minuti o addirittura decine di minuti. E un non ultimo, le radiazioni che danno hanno una quota molto più bassa perché la tecnologia avanzata permette con meno radiazioni di avere risultato. L'ospedale è tornato, ma è tornato meglio di prima, grazie ancora una volta alla Fondazione Bocelli. Siamo chiesti come fondazione come avremmo potuto essere utili, la risposta è stata ovviamente in ambito sanitario e quindi le richieste che ci sono state fatte per quanto possibile abbiamo cercato di supportare e quindi di essere presenti nel territorio. Grazie a voi oggi che ci aiutate a diffondere queste informazioni, siamo felici di ringraziare le tantissime persone che hanno donato il loro operato, che hanno donato le loro ore di lavoro. Sempre più abbiamo amici e volontari che vogliono essere al nostro fianco.